Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in un video davvero speciale, poiché oggi andremo a fare uno spacchettamento assurdo delle nuovissime bustine di Dragon Ball Z che sono disponibili in edicola. Ad essere sincero, ho notato che sono in giro già da qualche settimana, quindi sono io un po' in ritardo, ma almeno le sono riuscite a recuperare, ho ben 5 bustine che andremo a spacchettare insieme, e in ogni bustina ci sono praticamente 2 personaggi e il prezzo è di circa 4€, quindi un attimino elevato per almeno l'action figure, all'interno sono 2. Vi mostrerò nel dettaglio appunto tutti i personaggi disponibili, li andremo a spacchettare e spero di riuscire anche a trovare tutti i personaggi diversi. Potrebbe essere un'utopia, però ragazzi ci spero davvero tantissimo e sarete voi magari a portarmi fortuna. Lasciate un like adesso se volete che io vada a spacchettare anche qualche altra cosa. Di recente vi ho mostrato il monopoli di Dragon Ball, andate assolutamente a recuperare il video se non l'avete visto, ma non sto parlando di questo qui, bensì delle nuove action figure di Dragon Ball come ad esempio Goku Super Saiyan Blue, ma non è l'unico che ho acquistato, per questo motivo cercandomi su Instagram mi trovate come JosephGamer, magari vi lascio il link in descrizione per andare a followarmi e lì vi mostro un po' tutte le cose che compro, perché ripeto ne ho altre da mostrarvi oltre a questo Goku, che è solo una piccola anteprima della tanta roba che mi sta per arrivare. Cioè ragazzi guardate che figo, superiamo ora i 5000 like se volete lo spacchettamento di queste e altre action figure. Noi siamo prontissimi per spacchettare, quindi andiamo. Ed eccoci qui, io sono prontissimo e gasatissimo per spacchettare queste nuove bustine, e tra l'altro ho anche qui a portata di mano le action figure che erano presenti nelle precedenti bustine di Dragon Ball Super. Andremo magari a fare anche un confronto di qualità per vedere quali sono le migliori, e poi ho anche queste altre action figure. Queste qua ragazzi costano anche un bel po' di più, e andremo a vedere chiaramente quali sono le migliori. Ma adesso basta chiacchiere, andiamo a vedere un po' il packaging, come si suol dire, un po' il pacchetto. Qui sono riportati i personaggi. Essendo in coppia, ci ritroviamo praticamente Goku in questa versione Super Saiyan, che sarà accompagnato da una versione trasparente di Freezer, poi c'è Freezer, che sarà con la versione trasparente di Goku Super Saiyan, Poi abbiamo Krillin e Goku, o meglio, non è Goku, ma è probabilmente infatti Ginyu nel corpo di Goku, e poi gli altri personaggi sono Piccolo e Giz, Giz e Piccolo, e poi ci ritroviamo Barter con Gohan piccolino, e Gohan piccolino con Barter. A quanto pare quindi, tutte le statuette sono della saga di Freezer, infatti queste statuine sono le combo collection Goku vs Freezer, quindi tutti i personaggi sono quelli lì, e ci dice che ci sono, vabbè, due personaggi in ogni confezione. Andiamo subito a spacchettare, andiamo a vedere cosa ci ritroviamo all'interno. Ste bustine fanno un botto di rumore. La prima cosa che ci ritroviamo è questo fogliettino che ci dice qualcosina riguardo Freezer, qualche immagine molto particolare. Qui si parla di personaggio standard e personaggio traslucido. Vabbè, ci sono un po' di informazioni, un piccolo quiz, praticamente una sorta di labirinto che facevo anch'io da piccolino, magari sui fumetti, cose così, e vediamo subito cosa ci ritroviamo. Come pensavo, come vi avevo anticipato nell'intro, c'è la sfera. Vediamo un po' cos'è che abbiamo trovato. C'è forse proprio Goku e Freezer? Come faccio ad aprirlo? C'è un bel po' di scotch qui attorno, per proteggerlo non al meglio, al massimo. Vabbè, in ogni caso, qualcosina l'abbiamo già aperto, ed eccoci qui. Ci ritroviamo praticamente il nostro carissimo Ginyu nel corpo di Goku e poi la versione traslucida del nostro Krillin. Va benissimo. Tutti i personaggi, a differenza di quanto pensassi, hanno anche una base. Mettiamo subito Ginyu praticamente in piedi, dove dovrebbe esserci la coda di Goku. Appunto c'è questo foro. Non diciamo dove, lasciamo perdere. Ed eccolo qua, ragazzi. Ve lo faccio vedere un po' nel dettaglio. Devo essere sincero, non mi sembra dettagliatissimo, però dai, come piccolo action figure, per 4 euro, ne escono due dalla bustina. Dai, ci può pure stare. Non male, non male. Quindi lo vado a posizionare qui e vediamo però l'altro. Eccolo qui, il piccolo Krillin, che è senza braccia. Per quale motivo? Perché vanno addirittura montate. Sto notando solo ora che anche la testa può essere mossa. Vedete? Si gira. Ed è qualcosa di stranissimo e che da un action figure così piccola non mi sarei aspettato. Il risultato è questo qui. Peccato per le braccine che ogni tanto cadono. Andrebbero un attimino messe meglio, ma non importa. Procediamo con la prossima bustina. Io ragazzi, spero davvero tantissimo di evitare i doppioni, perché sapete che ci tengo a completare la collezione. Vediamo che riusciamo a fare, eh. Ed eccoci ragazzi, scopriamo l'action figure. Non riesco ancora ad individuarle. Ed eccolo qui. Ok ragazzuoli, ci ritroviamo Giz direttamente dalla squadra Giniu e poi l'altro doveva essere piccolo. Andiamo anche questi ad aprirli. Ed ecco qui Giz. Diciamo che il personaggio ovviamente si riconosce anche abbastanza bene. Ha lo spazio per metterlo qui sulla basetta direttamente nei capelli. E ci sta ragazzi, ci sta. E anche in posa così come era prima il nostro carissimo Krilin. E quindi lo andiamo a posizionare sulla base. Si mette alla perfezione, quindi senza problemi anche Giz è stato trovato. Dai ragazzi, seconda bustina non abbiamo avuto problemi. E poi ci troviamo in versione traslucida questo piccolo che sembra non smontarsi o forse sì, ecco, si smonta il busto a differenza di Krilin che sembra essere quasi completamente smontabile. Anche lui può essere messo ecco direttamente qui sul fondo schiena. Si mantiene. E quindi lo mettiamo ecco qua sulla basetta si appoggia e quindi li andiamo a posizionare entrambi dietro e passiamo direttamente alla terza bustina su cinque. Ragazzi, io spero di trovare chiaramente sia Goku Super Saiyan che Freezer. Ci riusciremo? Vedremo. Ed eccoci qua. Allora, terza bustina, ripeto, vediamo di che colore è la pallina. Oh, questa volta sembra essere totalmente trasparente. Vediamo se riesco ad aprirla. Con un po' che difficoltà ce l'ho fatta e guardandola meglio in realtà ragazzi è verde. Dalla videocamera molti colori sembrano essere sbalzati un po', eh? E abbiamo trovato Freezer! Sì ragazzi, lo abbiamo trovato ed è a pezzi perché praticamente ha anche la coda. Allora, il primo che andiamo a vedere è Goku in versione Super Saiyan però in versione traslucida. Quindi vediamo se riesco a montarlo. Questa è la parte davanti. Questi qua ragazzi devo ammettere che per quanto magari sono carini in versione traslucida ma non ne capisco tantissimo il senso ed ecco qui anche Goku sulla sua base. Questo spacca e devo assolutamente trovarlo in versione standard. Andiamo a togliere un po' di roba da qui e andiamo a vedere adesso nel dettaglio anche Freezer sperando di riuscire a montarlo in maniera anche abbastanza semplice ma non credo avremo problemi, no? E ora lo andiamo a mettere come si deve. Oh, ed eccolo qua ragazzi. Possiamo vederlo nel dettaglio e questo Freezer direi che non è male. Dai, la faccia mi sembra anche abbastanza positiva non riesco a vederlo benissimo perché io vedo sempre tutto attraverso la videocamera però anche il corpo non mi sembra male e mi è piaciuta poi la chicca relativa alla coda. Quindi questi sono i sei personaggi che abbiamo trovato fino ad ora. Ci restano in totale altre due bustine. Mettiamo a fuoco e andiamo ad aprirle. Spero ragazzi di trovare almeno Goku. Per ora tre bustine tre personaggi diversi o meglio sei personaggi diversi purtroppo questa qui mi pare simile vediamo cosa troviamo ragazzi c'è Goku non ci credo ragazzi ma stiamo completando la collezione o sbaglio? Ed eccoci qua andiamo a spostare tutto e godiamoci il nostro Goku che come al solito è diviso a metà lo andiamo a montare assolutamente Goku perdonaci taglierino vieni a me non mi deludere oh perfetto andiamo un attimino a liberarlo da questa prigionia incredibile oh Goku perché non vuoi uscire? Cos'è? Hai vergogna? Andiamogli a mettere chiaramente la coda sperando che si mantenga e il risultato è più che positivo e poi lo vado a posizionare sulle varie basi che abbiamo eccolo qui ragazzuori Freeza traslucido e ora passiamo proprio a Goku lo andiamo ad unire poiché era diviso praticamente a metà e come al solito lo vorrei mettere sulla sua basetta peccato che i pezzi siano piccini le mani sono più o meno grosse quindi si va un po' in difficoltà ed eccolo qua ragazzi Goku nella sua forma Super Saiyan in pratica qui si era trasformato davvero da poco devo ammettere che non è affatto male ma è così piccolo che quasi non gli si vede la faccia quindi io faccio proprio fatica a vederlo in maniera dettagliata in faccia però di base è comunque abbastanza carino poi ragazzi fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate e soprattutto se avete acquistato queste bustine cosa che fino ad ora non vi ho chiesto fatemi sapere se magari che ne so avete già completato la collezione cosa tra l'altro probabile perché queste bustine a differenza di quanto pensassi sono in giro già da un po' mi erano sfuggite devo essere sincero però dai abbiamo recuperato fino ad ora abbiamo trovato un bel po' di roba ovviamente non possiamo completare la collezione perché non ho le bustine necessarie proprio per completarla ma non importa cambia anche la sfera e vediamo se da qui riusciamo ad intravedere qualcosa voi riuscite a vedere cosa ci può stare qua dentro ed ecco qua che finalmente ce l'ho fatta era davvero tosta come cosa e qui ci ritroviamo non riesco a capire chi è ragazzi ah ma è piccolo raga non ci posso credere cinque bustine nemmeno un doppione assurdo quindi qui ci ritroviamo il nostro grandissimo piccolo che poi dire grandissimo piccolo è difficile e poi Giz in versione traslucida anche questi chiaramente li andiamo a scoprire insieme altrimenti se la prendono no dicono ma com'è gli altri gli spacchetti e noi no eccoci qua ragazzi il nostro piccolo è sempre un grande eroe ha salvato Gohan beh ho perso il conto di quante volte a partire da Dragon Ball Z ed eccolo qua ragazzi come al solito imbronciato si fa la sua posa sempre con le braccia incrociate e questo qui ci sta davvero tantissimo anche in questo caso la faccia non è che si riesce tantissimo ad individuare peccato peccato però vediamo cos'altro c'è qui abbiamo quel Giz traslucido vorrei montarlo in vostra compagnia e consigliatemi ragazzi nei commenti se mi conviene secondo voi magari completarla la collezione fino ad ora abbiamo trovato davvero tante tante cose nemmeno un doppione quindi mi mancherebbero altre tre bustine ammesso che io non trovi di nuovo altri doppioni per riuscire a completare il tutto e quindi ragazzi eccoci qua finalmente ce l'abbiamo fatta ci ritroviamo Giz ed eccolo qui il nostro piccolo come vedete questa è tutta la nostra collezione li ho posizionati tutti quanti qui e andiamo a fare un piccolo confronto con le vecchie action figure in primo luogo qui vediamo chiaramente che abbiamo dei super saiyan blue quindi abbiamo già un livello totalmente diverso non solo di potere ma anche forse di fattura queste qua mi sembrano fatte un pochettino meglio infatti allo stesso prezzo quindi mi pare 4 euro nelle bustine precedenti te ne dava una sola di action figure invece adesso ecco con lo stesso prezzo te ne danno due sono un attimino più piccoline proprio di statura mi sa andiamole a vedere un po' diciamo che queste qui sono anche un po' in caricatura non è che rispecchino proprio tutti i canoni normali delle action figure quindi ci sta io personalmente preferisco queste qui e anzi spero che ne facciano comunque altre di queste e le migliorino dal punto di vista anche di qualità per non parlare poi magari anche di altre action figure come questa queste qui ve le ho già mostrate in passato ossia Goku che Vegeta e queste però ragazzi sono ovviamente su tutt'altro livello queste costano più o meno sui 15 euro al pezzo cioè singolarmente però ragazzi qui abbiamo qualità superiori poiché ragazzi sono delle vere action figure e non magari personaggi che escono in edicola fatemi sapere assolutamente nei commenti cosa ne pensate se vi piacciono se le comprerete se le avete già comprate tutto io ci tengo sempre ad avere la vostra opinione da fan di Dragon Ball vi consiglio di recuperare i video precedenti che trovate sul mio canale riguardo l'action figure ma anche il monopoli di Dragon Ball e molto presto ne arriveranno tanti altri di questi video dei miei acquisti seguitemi su Instagram per vedere tutte le foto e poi vi sto preparando delle belle sorprese vedrete mi raccomando ragazzi iscrivetevi ora al mio canale YouTube cliccando proprio dove c'è questo Goku nella zona centrale e cliccate anche a destra e sinistra dove ci sono le due miniature in modo tale da vedere altri video del mio canale quindi ragazzi alla prossima ciao ciao